L'Occupazione e l'insicurezza L'Occupazione e l'insicurezza L'Arcivescovo Torcon I ha salutato tutti i presenti e ha speso parole preziose per un incremento dell'amicizia tra le diverse confessioni cristiane che abitano la Terra Santa Il nunzio apostolico Antonio Franco è intervenuto invece sulle trattative tra Santa Sede e Israele, sottolineando gli aspetti positivi e denunciando le criticità che non mancano mai Le difficoltà ci sono sempre, i punti in cui non siamo d'accordo ci sono sempre però io devo dire che c'è buona volontà anche di cercare soluzioni di arrivare a stabilire un modo suvivente che sia degno anche per i cristiani e che sia rispettoso anche della realtà sociale in cui si vive Il giorno dopo tutta la comitiva si è spostata ad Haifa per un incontro con i rappresentanti delle altre religioni. A fare l'onore di casa è stato il Vescovo Melchite Glias Shakur che ha accolto musulmani, ebrei e drusi nella parrocchia di Billin Uniti siamo più forti è stato il motto che ha accompagnato la giornata perché ha detto Monsignor Shakur il Dio che tutti veneriamo è il Dio della pace Nel dire queste parole ha indicato il ponte che unisce tutte le fedi Le religioni non sono per la difficoltà, per le violenze, per le guerre nessuno pensa così, se no noi siamo per la pace e facciamo ponte per conoscersi meglio e per condividere quello che è il nostro tesoro, ciascuno il suo Questo è molto molto importante Incontri con le autorità, visite e sostegno ai cristiani locali riflessioni sui cambiamenti portati dalla primavera araba La Holy Land Coordination ha posto il focus su tematiche di stretta attualità e ha ragionato sulle prospettive future dell'intero Medio Oriente Siamo qui per dialogare, siamo qui per udire, per vedere e sì possibile per aiutare specialmente i nostri fratelli e sorelle cristiane in questa molto difficile situazione che si vive adesso non solamente qui in Israele e in Palestina ma anche diciamo nel Medio Oriente e nel mondo Penso che il problema fondamentale sia l'instabilità che si è venuta a creare tra la Palestina e Israele Ci sono poi tutte le incognite che i cambiamenti politici stanno portando in tutto il Medio Oriente e non abbiamo idea di ciò che porterà in ogni luogo C'è la paura che il fondamentalismo islamico prenda il sopravvento e non sappiamo quanto queste organizzazioni estremiste possano incrementare il loro potere La storia ci insegna quanto è rischioso un cambio radicale del potere in situazioni precarie e ancora non possiamo dire che cambiamento ci sarà Io spero nella pace e credo che sia possibile in particolare con l'aiuto di Dio Non credo sia una situazione impossibile in passato Guardo la mia vita nel nord Irlanda Abbiamo avuto molte violenze Oggi possiamo dire che c'è pace Non è certo una pace perfetta La situazione qui è differente Ma anche se non c'è una vera e propria pace la situazione è certamente migliorata I leader politici si impegnino si legge nel comunicato finale per creare una maggiore speranza di pace per una coesistenza pacifica tra le varie religioni e questo è il messaggio finale emerso durante la conferenza stampa conclusiva un messaggio di pace e di speranza non solo per questa terra in difficoltà Dobbiamo portarlo dopo alle nostre nazioni alle nostre comunità La solidarietà deve essere dei pelerinaggi, di preghiera e anche di essere la voce delle comunità di Terra Santa